Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. Il satellite ci mostra una perturbazione atlantica sulla penisola iberica in lento movimento verso l'Italia. Sarà proprio questa perturbazione a portare un importante peggioramento da nord a sud di chiaro stampo autunnale, oseremo dire. In Abruzzo, nel corso di questo giovedì, avremo un netto peggioramento delle condizioni metrologiche. Arriveranno nudi, cariche di piogge e anche qualche locale forte a equazione, per lo più nelle aree interne, soprattutto a confine con Lazio. Fenomeni via via più blandi, più disorganizzati verso le coste. Le precipitazioni si concentreranno soprattutto nelle prime ore del mattino e poi nuovamente tra tardo pomeriggio e sera. Le temperature stazionare un leggero aumento nelle massime, valori tra i 13 e i 17 gradi, minime tra 6 e 10 gradi. Venti che si disporranno ovunque dei quadranti meridionali. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Realizziamo i tuoi sogni